Quali sono le principali innovazioni nella cura dell'artrite reumatoide? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Spinelli che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso dell'evento Highlight 2020 che ha fatto il punto su questa patologia e sull'impiego dei farmaci cosiddetti JAK inibitori. Dottoressa Spinelli è appena iniziato un nuovo decennio appunto con il 2020, facciamo un po' il punto di dove sta andando la ricerca nell'artrite reumatoide, cominciamo dai farmaci, a che punto siamo nella cura di questa patologia, cosa c'è di nuovo, cosa ci aspetta? Stiamo assistendo di fatto alla seconda rivoluzione in reumatologia, io ho assistito all'avvento dei farmaci biotecnologici e con mia grande gioia sto assistendo alla seconda rivoluzione in reumatologia con l'immissione in commercio dei JAK inibitori, il primo JAK inibitore eltofasitinib è oggetto di queste giornate di incontro. Si tratta di una rivoluzione perché abbiamo cambiato modalità di somministrazione, questo è un primo punto di vantaggio per il paziente che può preferire una somministrazione orale come emerso nella giornata di oggi. Un altro grandissimo vantaggio è rappresentato dalla estrema rapidità d'azione di questi farmaci in termini di dolore ma anche di astenia, quindi di fatto molto rapidamente permettono al paziente di recuperare una qualità della vita che l'artrite sicuramente compromette in vari aspetti. Un altro aspetto non trascurabile, questo spesso viene un po' dimenticato, è la possibilità di iniziare a pensare di ridurre i glucocorticoidi come anche sarebbe indicato nelle raccomandazioni EULAR. Grazie alla rapida e potente efficacia in termini di riduzione del dolore io sto riuscendo a vedere anche un effetto di risparmio del glucocorticoide che è molto 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 interessante di questa classe di farmaci. E il paziente, visto che li state già utilizzando da più di un anno, qual è il suo giudizio? Il paziente è tornato, se vogliamo, al centro della cura della propria malattia perché sicuramente condividere la scelta della terapia con il paziente è un obbligo, quantomeno un obbligo morale per il clinico e dovrebbe essere il nostro pane quotidiano. Avere una classe di farmaci, avere un farmaco come Tofasitinib che permette al paziente di giudicare il miglioramento dell'attività di malattia in tempi molto rapidi sicuramente riporta anche l'attenzione del clinico su quello che è la percezione del paziente e della qualità della vita come questa venga influenzata dall'artrite romatoide. Quindi sicuramente l'obiettivo di oggi si sta spostando verso quello che è un po' più l'obiettivo del paziente. Qui appunto di pazienti si è parlato molto nel corso dell'evento, vi siete anche molto soffermati sui cosiddetti patient reported outcome, quindi sulla autovalutazione del paziente e sull'evoluzione della propria malattia. Ecco ma questi cosiddetti pro patient reported outcome li utilizzate unicamente negli studi clinici oppure diventeranno sempre di più parte della pratica quotidiana? Allora i pro, i patient reported outcome sono una serie di strumenti che il clinico può utilizzare per valutare con una semplice scala 0-100 l'entità del dolore o la qualità della vita che il paziente appunto auto giudica o ci sono strumenti più complessi? Devo dire che noi nella pratica clinica già utilizziamola, quantifichiamo il dolore e l'impatto della malattia sulla qualità della vita anche semplicemente per gli indici da utilizzare come valutazione negli indici compositi. proprio con una classe di farmaci, come dicevo prima, che agisce molto rapidamente sul dolore, io credo che i pros sempre di più debbano entrare nella pratica clinica. È una valutazione che si fa in un attimo, non fa perdere tempo al clinico e deve essere fatta per poter avere un'idea a 360 gradi di quello che è la malattia del paziente. Anche perché forse poi incide sull'aderenza alla terapia, no? Se uno vede i risultati li valuta ed è contento. Non c'è dubbio. Il motivo per cui una volta si diceva al cortisone il paziente non se lo scorda mai perché è quello grazie al quale non sente dolore e quindi aderisce al glucocorticoide più che a tutto il resto. Se io ho uno strumento che mi permette di mostrare al paziente quanto migliora anche nel breve termine, probabilmente quello è uno strumento che mi può aiutare a agganciare il paziente a migliorare l'aderenza nel breve e nel medio termine sicuramente.